L'osservatorio settoriale sulle RSA è da ben diretto, è una realtà istituita nel gennaio del 2006 all'interno della nostra Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza, in particolare nell'ambito del CREMS, Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale. Questo osservatorio è nato sull'istanza di alcune RSA del nostro territorio che tra la fine del 2004 e il 2005 iniziavano a leggere dei segnali deboli che poi si sono trasformati in spinte al cambiamento molto evidenti oggi in atto e hanno chiesto una partnership con la nostra Università, in particolare con il nostro centro di ricerca per creare una realtà che potesse essere d'aiuto nel leggere i trend ambientali in essere e soprattutto che potesse essere un luogo di incontro neutrale dove favorire delle politiche di confronto e di benchmarking tra gestori di queste strutture, essendo allora il settore ancora abbastanza chiuso al confronto. Raccogliendo questa sfida, questa istanza arrivata dal basso, si è pensato di istituire questo osservatorio che ha abbracciato all'inizio un orizzonte interprovinciale, coinvolgendosi da subito la provincia di Varese, la provincia di Milano, l'ASL Milano 1 e l'ASL di Varese. E via via negli anni, anche grazie alle importanti attività di ricerca che sono state condotte alle attività di diffusione di questi risultati, l'osservatorio è cresciuto notevolmente, oggi abbiamo istituzionalmente presenti 5 ASL, oltre a quelle che ho citato prima sono presenti l'ASL Monza e Brianza, l'ASL di Pavia, l'ASL di Lecco e l'ASL Milano Città, a cui poi si sono aggiunte anche la provincia di Monza e Brianza e la provincia di Como. Oggi l'osservatorio conta circa 130 RSA associate, nel 99% dei casi sono strutture lombarde perché la focalizzazione è sul territorio lombardo in ragione della forte regionalizzazione e regolamentazione regionale di questo settore, per cui da regione a regione possiamo trovare dei cambiamenti veramente notevoli nel sistema di regole e quindi del funzionamento di queste strutture e abbiamo una rappresentatività di circa 20.000 posti letto che rappresentano grossomodo un terzo abbondante della complessiva offerta residenziale presente in Lombardia per quanto attiene il settore dell'RSA. Tra le numerose attività di studio condotte all'interno dell'osservatorio, cito in particolare un'attività che portiamo avanti dal 2009 che è quella degli indicatori di performance che sono stati individuati, performance organizzativo e assistenziale che sono stati individuati con la base dell'osservatorio, sperimentati e poi messi a regime che vengono calcolati di anno in anno restituendo poi dei report di benchmark in modo che per ogni singolo indicatore monitorato la struttura possa vedere dove si colloca sia rispetto alla media del campione sia rispetto alle singole realtà in forma anonima. Questi indicatori di performance che sono tanti perché è una batteria di oltre 60 indicatori alcuni di essi hanno ben oggettivato alcuni cambiamenti importanti che sono in essere nel settore ad esempio per quanto riguarda la caratterizzazione dell'utenza dell'RSA di oggi. Gli anziani che entrano nell'RSA oggi sono anziani innanzitutto di interesse geriatrico avanzato l'età media di ingresso supera abbondantemente gli 80 anni e quindi sono persone che entrano con un quadro psicoclinico spesso molto compromesso caratterizzato da elevata comorbilità e questo ha significato un cambiamento notevole per le strutture che sono diventate organizzazioni sempre più complesse e che al fianco della parte assistenziale che indubbiamente era il loro core sin dall'origine oggi devono affiancare anche una componente sanitaria e sociosanitaria di rilievo non a caso all'interno delle strutture operano tutte le figure professionali rilevanti da questo punto di vista dal personale assistenziale di base a medici, medici specialisti, fisioterapisti, educatori professionali e ovviamente la componente infermieristica e sempre più spesso troviamo anche ad esempio la figura dello psicologo di figure similari, questo anche in ragione di una notevole crescita del fenomeno delle demenze. Come dicevo alcuni di questi indicatori mettono in rilievo vari trend in essere per esempio un indicatore che dà l'idea del grado di compromissione elevato dell'utenza è quello che monitora le morti annuali che avvengono entro i primi 30 giorni del ricovero che per alcune strutture questo indice si aggira sul 20% quindi significa che sono persone che entrano ormai in una situazione veramente compromessa spesso a seguito della dimissione ospedaliera quindi l'ingresso avviene non dal proprio giomicilio ma direttamente dall'ospedale. Un altro dato che fotografa un fenomeno evidente a tutti che è quello della crisi economica è il fatto che le liste di attesa negli anni si siano sensibilmente ridotte così come un indicatore che monitoriamo annualmente che il tasso di rinuncia all'ingresso si aggira in media nel nostro campione al 33% cioè vuol dire che una persona su tre che viene chiamata dalla struttura a liberarsi del posto per qualche motivo rinuncia in quel momento all'ingresso e infatti si tende molto a ritardare l'ingresso questo anche per una questione di soprattutto oggi di ordine economico ovviamente le famiglie finché possono tendono a tenere l'anziano al proprio domicilio non sempre questa magari dal punto di vista della proprietà è la scelta migliore non a caso poi troviamo persone che entrano in RSA forse in una fase troppo avanzata per cui anche le possibilità di recupero di quei margini di autonomia già ridotti sono molto difficili questo anche perché la crisi economica non solo in molti casi rende pesantemente sostenibile da parte delle famiglie le rette perché ricordiamo che la quota sanitaria per i posti letto accreditati e contrattualizzati a carico del fondo sanitario regionale ma la quota alberghiera la retta alberghiera è a carico delle famiglie questa retta può variare tantissimo da strutture a strutture all'interno dello stesso territorio ma anche da territorio a territorio però è difficile scendere al di sotto dei 1.500-1.800 euro mensili salvo rare eccezioni di alcuni territori che hanno delle rette mediamente più basse ma arrivando tranquillamente a 2.400-2.700 euro mensili fino a superare i 3.000 euro in altri casi quindi l'impatto economico è importante in un momento di crisi come questo ha il suo peso inoltre il momento di crisi ha fatto sì che anche a seguito di licenziamenti o fenomeni di cassa integrazione ci sia stata maggiore disponibilità da parte della famiglia di fornire assistenza informale molte strutture ci hanno riportato ancorché casi limitati ma credo rendano l'idea anche delle difficoltà di tempo anche di famiglie che riportano l'anziano a casa dopo che magari era all'interno della struttura da 2 o 3 anni questo credo renda bene l'idea dall'altro lato va anche messo in evidenza che questi costi che diciamo possono apparire in alcuni casi addirittura proibitivi sono in realtà legati non tanto a elevati margini mark up delle strutture quanto al fatto che le strutture hanno un sistema di costi estremamente pesante dove il solo personale dedito all'assistenza tutte le famiglie professionali a vario titolo dedite all'assistenza possono rappresentare tra il 60 e il 70% dei costi quindi sono realtà che impiegano una quantità veramente significativa di personale e ciò implica una struttura dei costi particolarmente rigida un fenomeno che monitoriamo a partire dall'anno 2004 dai bilanci del 2004 noi analizziamo i bilanci dei nostri associati e mediamente dal 2004 al bilancio 2012 quindi uno storico molto molto importante per rendere l'idea circa metà delle strutture del nostro campione hanno un bilancio che registra dei disavanzi di gestione quindi non degli utili ma delle perdite e delle perdite che poi vanno anche ad erodere il patrimonio di queste strutture che devono poi diciamo ripianare le perdite attraverso l'accessione di parte del proprio patrimonio questo anche perché all'interno del settore è un fenomeno presente direi un po' in tutte le regioni abbiamo una presenza del pubblico in altre regioni e in Lombardia del non profit molto molto importante circa il 70% delle strutture presenti in Lombardia sono enti riconducibili a vario titolo al settore non profit e in gran parte sono Ipab depubblicizzate nel 2003 per lo più trasformatesi in fondazioni di diritto privato con la qualifica Ollus laddove è presente quindi questi costi elevati che possono essere anche interpretati in maniera non corretta da parte di persone non addentro al settore in realtà riflettono quello che dicevo anche delle difficoltà gestionali da parte delle strutture veramente importanti sull'altro fronte però va anche riconosciuto che proprio grazie a questo impiego di personale molto significativo le RSA, le RSA Lombarda in particolare sono un bacino occupazionale veramente molto importante dove trovano impiego anche delle categorie di lavoratori in qualche modo svantaggiati che potrebbero fare fatica a trovare lavoro in altri settori penso ad esempio a persone over 45, over 50 fuoriusciti magari da esperienze di lavoro nel mondo industriale a seguito di processi di outplacement che possono accedere alle qualifiche assistenziali di base come quella di ASA o quella di OSS e trovare abbastanza facilmente impiego all'interno di queste strutture quindi se lo guardiamo da questo punto di vista sicuramente è un bacino occupazionale rilevantissimo sia in senso numerico sia in senso qualitativo a fronte di questo quadro di grande complessità va anche detto che è stato oggetto dell'ultimo convegno annuale nel dicembre dello scorso anno del nostro osservatorio nel 2013 la regione Lombardia ha emanato degli importanti provvedimenti di indirizzo che chiedono un ripensamento della complessiva rete di offerta sociosanitaria di cui diciamo l'RSA per quanto riguarda il settore degli anziani è sicuramente il target più importante che chiede oggi a queste strutture anche in ragione di mutati bisogni delle difficoltà economiche delle famiglie di cercare di rimodulare la propria offerta diversificando i propri servizi quindi diciamo in futuro probabilmente avranno sempre meno ragione di esistere l'RSA monoservizio che sono RSA solo in senso tradizionale ma RSA che diventino centri di servizio RSA aperte, aperte al territorio e che siano capaci quindi di abbracciare anche altre tipologie di servizi ovviamente ancorate ai bisogni del territorio che vanno dai servizi domiciliari a vario titolo piuttosto che servizi semiresidenziali come possono essere i centri diurni integrati e la capacità di intensificare i rapporti con tutti gli attori della rete del territorio va detto per onestà che molte strutture già da anni antecedentemente a questi provvedimenti avevano iniziato dei percorsi di diversificazione importanti ma sicuramente questo provvedimento legislativo che è la DGR 116 a cui poi è seguita la DGR 856 che ha messo sul piatto per 6 mesi 50 milioni di euro di cui 30 milioni destinati al settore anziani rappresenta sicuramente un input ulteriore per spingersi verso anche nuove forme di servizio e rendere queste strutture per quanto possibile più flessibili perché indubbiamente se l'accreditamento lombardo che è stato pionieristico rispetto a quello delle altre regioni ha spinto molto verso un innalzamento della qualità della rete complessivamente intesa introducendo una serie di standard che poi sono stati alimentati nel corso del tempo dall'altro lato diciamo questo ha portato anche a un irrigidimento organizzativo delle strutture per cui la ricerca di maggiore flessibilità ancorché non facile può essere una risposta importante anche per captare dei bisogni diversi da quelli tradizionali a cui l'RS hanno sempre dato risposta grazie a tutti